Sandro, una gran bella vittoria, una partita intensa, il Settebello manda un messaggio agli avversari? Lo mandiamo a noi stessi prima di tutto perché queste sono le partite, stiamo abbastanza bene fisicamente però dobbiamo tenere questo ritmo per ancora quasi 14 giorni, ci sono ancora 3 partite del girone più altre 3, 6 partite in 12 giorni, quindi è una cosa che dobbiamo essere forti fisicamente e soprattutto mentalmente. Che partita è stata? Partita molto bella, molto fisica, all'inizio il loro volo in più ci metteva in grande difficoltà, soprattutto con i Mancini poi siamo anche andati sotto di due reti e la squadra è stata brava a non disunirsi, a ritrovare le energie col gioco nonostante poi siamo andati in pareggio a fine secondo tempo, poi ho detto ai ragazzi che stavamo giocando bene di avere fiducia e di giocare insieme, poi si sono viste anche delle giocate individuali ma all'interno di un gioco molto collettivo dove tutti entravano, tutti sapevano quello che dovevano fare. L'ultimo quarto senza più giocatori in panchina. Sì, è incredibile, 5 per 3 falli non mi era forse mai capitato nella storia, abbiamo cercato di distribuirceli anche Gianazza è andato a marcare il centro, Ciccio Condem è andato a marcare il centro, sono stati incommiabili però questo criterio di arbitraggio, l'avevamo detto anche alla vigilia, favorisce il centro Boa perché fischiano pochi falli contro, quando ce ne sono molti di più e fischiano ogni contatto, dubbio o l'espulsione. Questo è il criterio, faremo 15 uomini meno a partita, ci alleneremo questi giorni solo uomini meno. Grazie